Raghi mi ha chiamato l'altro giorno per complimentarsi per lo scudetto e gli ho detto vedi avremmo bisogno di unificare la tua figura come economista, perché io sono dell'idea che non si può fare politica senza fare economia, e la capacità, la grandezza, la passionalità di una politica che da tanti anni sta sulla scena ha fatto la gavetta come Giorgia Meloni, voi due insieme sareste imbattibili, però bisognerebbe cambiare probabilmente la nostra Costituzione fondando una Repubblica di tipo presidenziale, dove uno fa il Presidente e l'altro fa il Premier.